Ringraziamo il sindaco per questo consiglio così premuroso, ma invitiamo lui non tanto a tornare a scuola, perché penso che l'esito sarebbe esattamente lo stesso anche a distanza di tempo, ma di prepararsi un po' meglio quando fa certe dichiarazioni ai limiti dell'insensatezza. Perché? Dovrebbe concertare un po' meglio con i suoi collaboratori quando vuole magari raccontare delle frottole oppure forse soffre un attimo di sfasamento temporale, perché per riguardo alla Fratta Arcangeli l'unica gara a cui ancora si può fare riferimento è quella del 2008. Da allora poi il contratto è scaduto e la Giunta, anziché indire un nuovo bando di concorso, ha deliberato un affidamento diretto e su questo affidamento diretto tra l'altro ci sono, secondo me, è opinabile sia dal punto di vista formale che sostanziale, perché la legge concede questo tipo di deroga al concorso pubblico in caso ad esempio di urgenza, ma questa urgenza per cui il Comune non abbia potuto indire questa gara è tutta la dimostrare. Inoltre, dal punto di vista formale, la ditta fra Arcangeli non ha certo brillato per un servizio esemplare né nell'adebimento del disciplinare, del contratto di appalto, né come ha trattato i ripendenti, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Ancora l'altro giorno un autobus è stato trovato fuori regola e questo affidamento diretto quindi è stato ripiato alla Giunta e poi non è mai stato perfezionato, sembra, da alcuna forma di contratto, per cui nonostante il sindaco anche in consiglio e ancora precedentemente l'assessore Romanelli ci avessero assicurato che l'applicazione della penale per l'introduzione del servizio era già allo studio dell'avvocatura, sembra che appunto il contratto non ci sia, per cui nessuna penale potrà essere mai richiesta.